Novgorod, Ucraina. Questa alle mie spalle, come potete leggere dal cartello, è una scuola. Guardate il tetto. È stato centrato in pieno da un missile sparato dalla Federazione Russa. Come potete vedere l'esplosione ha danneggiato gravemente anche le abitazioni circostanti, la scuola, perché il tetto di quella casa è completamente stato distrutto e anche quest'altro. Noi ci troviamo proprio nel piazzale antistante la scuola distrutta. Questi sono gli spogliatoi dove i bambini, i ragazzi, si cambiavano e questa è la palestra della scuola. Questo paese, Novgorod, non fu mai realmente occupato dai russi, ma fu circondato quando entrarono nel 2022 anche da nord in Ucraina. Noi ci sono tutti, ma sono tutti, ma sono tutti. Lui dove vedre la macchina, la voleva roma imparati philipo. I dromi, i darle poi iniziò a sc idvero. E' in questo trascimento? Io non le direi un po', fino a circa un anno. Ma questa è stato pezzo. Per everere, la persona, quella era per l'è parte della scuola, i prestazioni che si sono colpso. Grazie a tutti